Sabato, 13 gennaio 2018, per la decima giornata di campionato, categoria giovanissimi, girone chieti, decima giornata di antata, scenderanno in campo la Virtus Castelfrentano, con la classica divisa giallorossa, ecco, vedete qua la fase di riscaldamento, c'è mister Giovanni Di Giulio, qua sono i ragazzi che partiranno dalla panchina, ci sono due, c'è un esordio Belardo, Belardo Emanuele, della categoria esordienti, oggi è stato messo in formazione da mister Giovanni per questa gara di campionato dei giovanissimi, partirà dalla panchina con il numero 17, abbiamo pure un altro esordio, mezzo esordio come guardalini di Dei Rardi Manuel, essendo che la formazione è già più di 18 ragazzi non si possono portare, e quella farà il suo approccio come guardalini, qua il blocco che partiranno da titolare, titolari, qua in fondo è la squadra ospite del San Buceto Calcio, prima in classifica, squadra leader di questo campionato fino a questo momento, giocheranno con la classica divisa viola, qua c'è il blocco dei titolari, e da quest'altro lato c'è il gruppo dei ragazzi che partiranno dalla panchina, San Buceto Calcio prima in classifica, mentre la Virtus Castelfrentano è terza in classifica, quindi sarà un big match oggi.